Ben ritrovati e ben ritrovati, è l'8 marzo e quindi buona festa della donna, un saluto affettuoso a tutte le bianconeri e non solo che seguono questo canale, vi auguro un'ottima giornata. Paralelamente però è anche la vigilia di Juventus Friburgo, ottavi, match d'andata degli ottavi d'Europa League, sfida che andrà in scena domani sera alle 21 all'Allianz Stadium, primo round, qua nel capoluogo piemontese. Mentre la prossima settimana i bianconeri dovranno completare l'opera nella foresta nera, giovedì prossimo. Allora, della probabile formazione, tra l'altro vedremo 15 minuti di allenamento alle 12, poi alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di vigilia di Max Allegri, come sempre in queste occasioni accompagnato da un giocatore, quindi cercheremo di capire concretamente che tipo di schieramento proporrà il tecnico Livornese. Vi avevo promesso ieri che avremmo parlato di Dujan Vlaovic, però la cronaca è sempre la priorità, perché ieri ho avuto un modo di verificare la notizia, ho trovato piene conferme, perché Moise Ken è già a tutti gli effetti un calciatore della Juve. Lui che è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Everton, mi sono spiegato che questo diritto di riscatto era praticamente un obbligo di riscatto e quindi la Juve nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, ha già esercitato questo diritto d'acquisto, questo obbligo d'acquisto, versando 28 milioni nelle casse dell'Everton. Quindi come patuito, questi 28 milioni sono finiti nelle casse dell'Etoffis e potrebbero esserci anche premi fino a un massimo di 3 milioni a raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi. Quindi diciamo che è stata un'operazione così costruita, perché la Juve ha preso inizialmente Ken a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo di 7 milioni, di cui 3 per la stagione sportiva 2022 e 4 per la stagione sportiva corrente, quindi un presso oneroso. Dopodiché è scattato l'obbligo di riscatto a 28 milioni, pagati in tre esercizi più, come vi ho detto, potenzialmente altri 3 milioni di bonus. E' chiaro che considerando il fresco rosso di Moise Ken, ieri è arrivata anche la decisione giusta sportiva perché Ken è stato squalificato per le prossime due partite, soffermarsi oggi su questo acquisto da parte della Juventus è un po' crudele, perché diciamo che il tifoso vive anche di onda emotiva, vive anche di pancia, e al momento non è propriamente il giorno giusto per analizzare questo investimento, che era nell'aria, perché diciamo che la Juve va a sostituire Moise e Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del mercato del 2021. Non sbaglio, sì, la Juve ufficializza il 31 agosto 2021 l'acquisto di Moise Ken dall'Everton, però se l'ha già intuito come fosse un prescito mascherato, con i Toffis che nell'immediato avevano fatto un passo nei confronti della Juventus per le esigenze di bilancio, e la Juve ha rispettato poi l'accordo in essere, tant'è che Ken è diventato a tutti gli effetti un giocatore al 100%. Della Juventus, che dire, non so onestamente quale sarà la proiezione futura di questo ragazzo nei progetti della stessa vecchia signora, devo dire che mi è sembrato che a livello di mentalità quest'anno siano arrivati dei segnali positivi, e ce l'ho fatta poi per la trasferta di Roma, dove Ken è caduto nel tranello di Mancini e si è beccato in maniera sacrosanta. Il rosso diretto, quasi un rosso record, e ovviamente le due giornate annesse, risqualifica, però in generale finora Ken si era comportato bene, si è comportato bene, con professionalità, con dedizione, con attenzione, una nuova dieta, persi i chili, che doveva perdere, insomma, un percorso che ha portato poi anche lo stesso Max Allegri a elogiare pubblicamente questo ragazzo. Carota e Bassone, Carota l'elogio, Bassone è ovviamente le parole di Allegri al triplice fischio della recentissima sconfitta all'Olimpico. D'altra parte c'è da dire che Ken ha 23 anni, e quindi a 23 anni devi aiutarti da solo, non sei più un ragazzino, perché lui è nato il 28 febbraio 2000, rispetto a quegli anni dove lo seguivo io, che prendeva pallonate chiunque nei giovanissimi nazionali, un giocatore assolutamente fuori categoria, faceva due, tre, quattro gol a partita, ricordo tecnici che lo sostituivano per far divertire anche gli altri, perché era davvero ingiocabile, però c'è da dire, c'è da dire che Ken finora non ha fatto quello che doveva fare, quel tipo di carriera, e chissà se la farà mai, perché è vero, a 23 anni sei ancora giovane, non giovanissimo a livello calcistico, perché parliamo di uno che è già alle spalle, un ciclo con la Juventus, con i grandi della Juve, il Leverton, quindi la Premier League, Paris Saint-Germain, e che è Paris, con certi mostri sacri, però è un attimo, è un attimo buttare quelle due o tre annate che poi determinano il positivo e il negativo della tua carriera, perché che Ken sia un giocatore che potrà fare sempre, diciamo, un certo tipo di livello, mi sembra chiaro, ha delle ottime doti, può migliorare ulteriormente, ma quando è già nel curriculum, con tuo rispetto per l'Everton, ma anche Juventus e Paris Saint-Germain, insomma è la carriera molto chiara, delineata, però, per chi, come sottoscritto, come molti di voi, ha seguito Ken nelle giovanili, l'ha sfoggiato a tutti gli effetti lo status di predestinato, poi ci sono stati dei comportamenti non propriamente professionali, che se vogliamo fanno anche parte dell'età verde, no? Perché un ragazzo del Sacro Santo che sbagli, ci sono errori e errori, evidentemente Ken, indeterminati frangenti della sua giovanissima carriera, qualche errore l'ha commesso, come tutti, però forse un po' più plateale rispetto ad altri, errori commessi da altri calciatori. Ma stupisce proprio Roma-Juve, questo è il punto di ritorno, perché da Ken una reazione simile, con sette minuti di recupero, con la Juve che deve riacciuffare il risultato, con la stima di Allegri, tutte le belle parole che non arrivate nelle puntate precedenti, con il fatto che poi la Juventus, banalmente, ma non troppo banalmente, sul suo conto abbia investito dei soldi importanti per riportarlo a Torino, bisogna dare di più, bisogna dare di più, perché questo ragazzo può dare di più. Però non dobbiamo nemmeno commettere l'errore di ripetere sempre le stesse cose, perché mi sono accorto che finora, in questi sette minuti di video, ho già detto cose che su Ken abbiamo spiegato e rispiegato e rispiegato ancora, diffusamente. Quindi questo è il quadro, a livello di cartellino, ora sappiate che Moise Ken è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, dopodiché capiremo quali saranno i programmi della vecchia signora, al termine della stagionale sul suo conto in generale, perché poi anche se non è l'argomento di Dujan Vlaovic va affrontato, e non lo definirei caso. Ogni volta che Vlaovic non segna, sembra che scoppi davvero il mondo, però non bisogna veramente commettere leggerezze, cioè pensare che Vlaovic sia un giocatore normale. Vlaovic è un top player e va trattato da tale, soprattutto a livello di espressione calcistica, va messo nelle giuste condizioni, affinché Vlaovic faccia Vlaovic. Poi lui deve migliorare tantissimo di suo, ma non si può mettere in discussione un investimento da 80 milioni, che ha portato anche nel macro concetto ad accompagnare volutamente la porta Paolo Di Bala. Però di Vlaovic ne parleremo nelle prossime ore, oggi nella giornata di vigilia di Juventus Friburgo, quindi testa a questo match. Spero che vi sia piaciuto il video di ieri con Giorgio Dusi, che ha dipinto, ha fatto un ritratto perfetto del Friburgo, essendo uno dei più grandi esperti della Bundesliga. e niente, fatemi sapere cosa ne pensate del fatto che Ken, già da qualche mese, si ha tutti gli effetti della Juventus.